Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Nuova Notizia, esordio più che positivo per il nuovo mercato comunale di via Cimarosa Doristano, buoni affari per gli operatori commerciali che non sembrano rimpiangere affatto la vecchia struttura di via Mazzini, come ci conferma Mariana Guarna. È molto carina, molto accogliente, piccola ma accogliente. Quindi tutti contenti oggi? Sì dai, oggi sì, oggi siamo contenti. Volte distesi e sorrisi aperti, in via Cimarosa Doristano il clima teso da primo giorno di scuola ha subito lasciato spazio all'entusiasmo. Debutto più che positivo per il nuovo mercato civico, i locali messi a disposizione dal comune per il tempo necessario a rifare il look alla struttura di via Mazzini piacciono a tutti, commercianti e clienti. Secondo me è più bellino qua, sta bene? Stiamo lavoricchiando. Molto carina, molto accogliente, sì. Quindi un sacrificio che si fa volentieri in attesa della ristrutturazione di via Mazzini? Assolutamente sì, è piaciuto a tutti. Per adesso le prime impressioni sono state queste, positive. C'è bellino. Lei era cliente di via Mazzini? Sì, da sempre. Come si trova oggi? Cioè un po' spaesata all'inizio, però vedo che... Quindi continuere a rimanere cliente in via Cimarosa? Sì, 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 senza dubbio. Affezionata al mercato, niente centri commerciali? No, 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 centro commerciale proprio no, da escludere. Bella, ci dobbiamo ancora abituare, tutta una novità anche per noi, anche per i clienti, però non ci possiamo lamentare, dai. Per essere la prima volta mi sento a mio agio, tranquilla, bello, non posso dire niente. All'appello questa mattina mancava ancora qualche macelleria e tutto il reparto pescheria. Entro metà settimana la piena operatività. E qui nessuno sembra avere nostalgia dello storico mercato di via Mazzini. Per niente, per il momento almeno no. È uguale, perché mi è vicino sia l'uno che l'altro. Anche più bellina, siamo un po' tutti insieme, direi erano più banchi vuoti, insomma. No, stiamo bene. Le mancherà via Mazzini? No, no. Dove c'è, io compro dove c'è a buon prezzo. Qui mi è più comodo che è più vicino a Corcio. Ci sono anche i fiori. Tre famiglie dell'Oristanese ospitano da diversi mesi altrettanti studenti stranieri. Due ragazzi del capoluogo invece partiranno presto per un anno di studio all'estero. Tutto merito di intercultura che da anni opera per annullare le distanze tra i cinque continenti. Alessandra Porco. Stati Uniti, Canada, Costa Rica, Turchia, Nuova Zelanda sono solo alcuni dei paesi in cui migliaia di studenti italiani scelgono di vivere e studiare per un anno. Tutto merito di intercultura che da anni promuove la formazione all'estero. Quest'anno saranno due ragazzi oristanesi che a breve partiranno per questa nuova avventura. Serbia e Stati Uniti le destinazioni scelte. Ad accoglierli due famiglie che per 12 mesi saranno al loro fianco. Ma anche il bel paese viene scelto come tappa di questo percorso. Al momento sono tre gli studenti ospitati nella città di Eleonora. Per la precisione due ragazzi nel capoluogo e una ragazza a Santa Giusta. David, arrivi dal Messico, giusto, da una grande città del Messico e stai qua a Doristano da quanto tempo? Da sette mesi sono arrivato qua a Doristano. Intercultura è una grande possibilità, insomma una bella avventura, una bella esperienza. Sì, conosci un sacco di gente, diverse culture, impari moltissime cose e secondo me è quello più bello che puoi fare a questa età. E dal Messico passiamo alla Nuova Zelanda, giusto? Sì, sì, vengo dalla Nuova Zelanda, Auckland si chiama la mia città. Come Oristano rispetto ad Auckland? Oristano è molto più piccola, ma comunque mi piace. C'è un aspetto della famiglia qua di Oristano che tutti si conoscono e quindi a me piace. Non è come in Auckland dove è molto più grande e quindi non si conoscono le persone. E qui abbiamo Abby che sta a Santa Giusta da qualche mese. Sì, io vivo qui per due e mezzo, mi piace, per me è molto grande, mi piace. Tornerai a Doristano in Sardegna? Sì, sì. A sentire i ragazzi trascorrere un anno lontano dal proprio paese un'esperienza che cambia la vita e giudicare dai visi sorridenti e rilassati sembrerebbe proprio che la cambi meglio. Questa mattina l'arcivescovo di Oristano ha visitato un po' a sorpresa i dipendenti comunali. Dopo aver benedetto i locali, Monsignor Ignazio Sanna ha scambiato qualche parola con i lavoratori. Sentiamo. Sapete quanto vale un vostro sorriso a uno che viene in questi uffici. È importante recuperare questa dimensione umana. Noi invochiamo la benedizione di Dio perché questa dimensione umana sia ancora sempre promossa e sia quello che vi contraddistingue nel rapporto con la gente. A queste parole Monsignor Ignazio Sanna ha affidato il suo personale augurio. Stamattina ha incontrato i dipendenti del comune di Oristano. Una visita attesa, culminata con la benedizione dei tre edifici di Piazza Eleonora in cui lavorano 250 persone circa, a cominciare dal Palazzo degli Scolopi dove si riunisce il Consiglio Comunale e hanno sede alcuni assessorati. Poi, accompagnato dal vice sindaco Giuseppina Uda che ha sostituito il primo cittadino Guido Tendas e dall'assessore a lavori pubblici e fisio Sanna, l'arcivescovo ha visitato la struttura dove invece si riunisce la giunta e che tra gli altri ospita l'ufficio del sindaco. Anche qui dipendenti emozionati alla vista di Monsignor Sanna che ha avuto parole di speranza e incoraggiamento per tutti. Dopodiché, il trasferimento in una struttura dove operano dirigenti e dipendenti dell'area, lavori pubblici. Che possiate fare sempre delle case dove c'è la dignità della persona. Lavori pubblici, se non sbaglio, è molto importante. Sappiamo quanto sia identitario il lavoro nella dignità della persona. La prima domanda che si fa a una persona che si incontra è che cosa fai? E se quello c'è un lavoro si sente onorato. Purtroppo se è disoccupato si sente un po' in qualche modo depresso. Quindi è importante che ci sia questa identità attraverso anche un lavoro. Continua il gelo tra i cinque comuni del Sinis che avevano fatto domanda di Costituzione del Gal e l'assessore regionale all'agricoltura Elisabetta Falchi. Ancora nessun incontro tra le parti e soprattutto nessuna notizia della riapertura del bando regionale. Cinque sindaci del Sinis da una parte e l'assessore regionale all'agricoltura dall'altra. La guerra fredda continua e il tema è sempre lo stesso. La Costituzione del Gal Sinis. Un mese fa la denuncia dei primi cittadini. Il bando regionale è stato sospeso improvvisamente e noi siamo fortemente penalizzati. I comuni di Cabras, San Veromilis, Baratili, Narbolie e Riola infatti avevano presentato domanda di Costituzione del Gal Sinis subito dopo l'uscita del bando datata fine dicembre 2015. A marzo però, proprio a pochi giorni dalla scadenza, il bando viene congelato. La regione, fa sapere l'assessorato all'agricoltura, ha deciso di cambiare le linee guida e ripubblicherà a breve il bando. Ad oggi però niente di tutto questo è successo. Ma c'è di più. Dopo la protesta dei cinque sindaci, l'assessore Falchi li convoca a Cagliari per un chiarimento e fissa la data, 31 marzo. A poche ore dall'incontro però, anche questo vertice salta per sopraggiunti impegni della Giunta. È stata una grande sorpresa, unita a forte delusione, spiega Cristiano Carrus, sindaco di Cabras. I sindaci rimangono a tutto oggi in attesa dell'incontro, offrendo la massima disponibilità per la convocazione di un'imminente nuova riunione. Se così non fosse, fanno sapere però i cinque sindaci, i comuni si vedranno costretti a intraprendere le necessarie iniziative legali nell'interesse delle comunità rappresentate. Il Comune di Bosa si dota di nuovi mezzi per la maggiore sicurezza della città. Ci spiega tutto Pier Gavinovacca che ha intervistato il primo cittadino. Il Comune di Bosa si dota di sistemi di sicurezza. Quali e perché soprattutto? Allora, non sono solo sistemi di sicurezza, sono sistemi di controllo e soprattutto stiamo cercando di informatizzare il servizio e le attività, mettere al servizio dei vigili urbani, appunto, dei sistemi informatici. Da un lato, per i sistemi di controllo utilizzeremo il telelaser. È stato acquistato un telelaser, è informata la popolazione, è messa la segnaletica e sarà operativo proprio. Quindi stiamo parlando di limiti di velocità. Limiti di velocità. Abbiamo rivisto anche limiti di velocità, 10 chilometri nel corso Vittorio Emanuele e 50 chilometri all'interno dell'abitato. Quindi c'è una toleranza minima di 3 o 4 chilometri. E quindi questi controlli, insomma, sono finalizzati a garantire la sicurezza soprattutto dei pedoni, oltre che evitare possibili incidenti per l'accesso di velocità. Un altro sistema sarà quello della videosorveglianza, che abbiamo messo 5 camere nei 4 ingressi della città e un'altra in una piazza dove proprio arrivano i pullman, piazza Nasseria. Sono telecamere che quindi serviranno per verificare chi entra nel centro abitato e chi esce e anche per tenere sotto controllo azioni non perfettamente legali. L'altra azione, sempre a supporto, come dicevo prima, dell'attività che svolgono i vigili urbani, sono degli smartphone e un sistema di collegamento diretta con la centrale operativa, in modo che scompaiono i vecchi verbali scritti a mano per invece utilizzare un sistema elettronico che invia direttamente i dati alla centrale operativa. Ed ora uno sguardo al nostro palinsesto. Da oggi, dopo alcune settimane di pausa, riparte la trasmissione, trasmissione, targata Davide Urgul, lo scroccone 2.0. Riparte 2.0, perché molti hanno paura, lo scroccone, non abbiate paura. Io non scrocco nulla che si possa mangiare o bere, o soldi, roba del genere. È cultura che io sto praticamente rubando ai ricchi per dare ai poveri di cultura, quindi tutto quello che ci circonda, che possiamo scroccare, che può farci imparare cose nuove, questo è lo scroccone 2.0. Lo scroccone è il marchio, 2.0 è il titolo della trasmissione. Comunque sì, siamo tornati. Da chi andrà e chi saranno i tuoi interlocutori? Bene, abbiamo per esempio oggi la puntata che è già andata in onda, che andrà in onda in replica alle 15.30. Siamo dalla presidente della festa di Palmas, che ci spiega cosa vuol dire essere presidente di una festa e poi ci illustra anche quello che è il programma. Per l'estate poi? Per l'estate sotto la doccia, sotto la doccia sempre più spogliati diciamo, spogliati ma tra virgolette perché comunque ci saranno delle novità, ci saranno le rubriche, impareremo a fare, cioè torneremo a fare i cocktail alla vernaccia, li abbiamo inventati noi, poi sono arrivati gli altri che se ne sono impadroniti, ma siamo noi con Enrico Fiori e Gianfranco Peras. 2.0 fino a giugno, poi via alla trasmissione sotto la doccia. Sotto la doccia per la quale stiamo già lavorando, per fare in modo che sia molto ricca e varia con tutto quello che l'estate propone. Un'altra cosa la posso dire al volo? Gli orari, perché 13.45, in replica alle 15.30, 19.15, 20.45 e mezzanotte e mezza, anche per i notturni. Quindi ci vediamo da oggi per 4-5 mesi, tutti i giorni, tutti i giorni. Ciao a tutti. Non ci sono altre notizie per questa edizione del Telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.